A Palazzo dell'emiciclo è tornato a riunirsi questa mattina il Consiglio regionale con la discussione di alcuni documenti politici e interrogazioni come quella sui tagli al trasporto pubblico locale e alcune in tema di sanità, alle quali ha risposto in aula l'assessore Veri, ma molto importante è anche l'interpellanza per il sostegno alle allevatori produttori di latte. In aula anche tre progetti di legge, significativo sicuramente quello relativo alla riforma della protezione civile, con le modifiche alla legge che ha istituito nel 2019 l'Agenzia regionale, ma anche una proposta che ha visto come primo firmatario Francesco Taglieri dei 5 Stelle. Una proposta di legge passata in prima commissione bipartisan perché condivisa anche dal presidente Sospiri ad esempio e da Febbo, ma che ha visto la sola stenzione del consigliere Cipolletti in commissione passato al gruppo misto e con il quale Taglieri ha polemizzato in consiglio perché sedeva ancora tra i banchi dei 5 Stelle. Una proposta che in sostanza vuole fare in modo che ci sia un'unica contribuzione da versare all'autorità portuale per le aziende che operano nei porti regionali e non la doppia contribuzione sia a livello regionale che nazionale. Alcune regioni infatti hanno impugnato queste norme. Oggi arriva in consiglio regionale una nostra proposta di legge di cui io sono primo firmatario, una proposta a sostegno delle aziende di questo territorio, delle stesse che chiedono la concessione demaniale all'interno di quelle che sono le aree portuali. Fino ad oggi in regione Abruzzo ancora c'era una doppia tastazione sia di carattere nazionale che di carattere regionale. Ha trovato spazio in tutte quelle che sono le forze sia di maggioranza che di minoranza con il contributo da parte di tutti, passate in prima commissione con un voto unanime perché naturalmente hanno ben capito e compreso oggi quanto possa essere veramente importante sostenere le nostre aziende e il nostro territorio.